Prima di andare nel merito di questa LuxxR Max e rispondere ai tanti di voi con i dubbi e le problematiche che avete riscontrato Devo farvi i complimenti Siamo quasi 32.000 Vapers Una community fatta di interazioni like, dislike, critiche Insomma una community ben assortita Io sono un piccolo recensore che oltre a fare recensioni Sono uno di quelli che poi va a vedersi anche le recensioni degli altri E qui ho notato che c'è un abisso tra i commenti fatti sotto i video del canale di UnicoSvapo e sotto gli altri video Infatti oltre ad esserci tantissima interazione escono fuori dei commenti e delle discussioni molto interessanti Sia per chi va ad acquistare il prodottino oggetto di recensione E sia per le stesse aziende che vanno a migliorare le future batch Detto ciò ora andiamo a risolvere i problemi o finti tali di questa LuxxR Max di casa Vaporesso Che ne sono uscite fuori dai commenti dopo diverse settimane di utilizzo Partiamo subito dal commento di Cobst che mi dice Tato l'ho acquistata un paio di giorni fa ma a volte è noto che con la coil del 0.4 e del 0.2 Devo abbassare il vattaggio a di sotto e anche di parecchio rispetto a quello consigliato Perché altrimenti il vapore è abbastanza caldo Questa cosa non gliela fa sempre Ho letto che anche altri di voi hanno questo problema Io come prima cosa gli ho suggerito di verificare se la stessa LuxxR Max va a leggere in modo corretto gli ohm della coil Come si fa? Andiamo a inserire la nostra pod in questo modo E vedete c'è il best wattage più gli ohm della coil In questo caso coil da 0.2 letta perfettamente da 0.2 e ce la porta a 55 watt in automatico E lui di tutta risposta mi ha detto Guarda che io non ho la possibilità di leggere gli ohm della coil Io ho insistito, ho pubblicato sulla community anche una foto In cui facevo vedere proprio dove venivano indicati gli ohm della coil E a quel post si sono aggiunti altri come Carlo, come lo stesso Emerson Che dicono guarda dato che neanche la mia ha questa possibilità Partiamo subito con il dirvi che questa non sarà la prima e neanche l'ultima volta In cui ci sarà la differenza tra i sample che verranno inviati a noi recensori per testarli E fare la recensione e il prodotto finale uscito in commercio E' stato il caso della Luxx e LuxxR Per restare in casa a vaporezzo con il famoso pirulino Il pirulino più famoso d'Italia del tubo Gli unici esemplari a non avere il pirulino erano i miei Quelli messi in commercio avevano il pirulino E' il caso di questa Max, di questa XR Max In quanto vaporezzo evidentemente ha deciso di togliere la visualizzazione degli ohm Quindi nel momento in cui andrete a togliere e rinserire la pod Generalmente, dico generalmente, fatemelo sapere nei commenti Se anche la vostra si comporta in questo modo Comunque diciamo che generalmente, visto che tre di voi mi hanno detto che questa cosa manca Nel momento in cui andremo a rinserire la pod visualizzeremo solo il best wattage Poco male, aggiungo io, perché tornando al problema dello stesso Stefano E di Carlo, dello stesso Emerson e di tanti altri Intanto il telefono continua a squillare Anche perché, vi dirò subito, ho pubblicato un video oggi Sono le 22.18 del 14 giugno Ora io mi immagino che questo video uscirà il 15 giugno E non vi dico i messaggi che mi sono arrivati sotto a quel video E sotto i post fatti sulla community Di alcuni di voi birbantelli che aspettavano risposta Sulla gli ohm visualizzati su questa Lux XR Max Fortunatamente fuori piove Non avevo altro da fare E quindi ho deciso di fare questo video di risposta E quindi per tornare alla segnalazione A me questo problema non lo fa Non lo fa né con la coil da 02 né con la coil da 04 Io come suggerimento che ti do è Nel momento in cui vai a inserire la tua pod Verifica se il vattaggio consigliato è quello Lascia attivato sempre la funzione smart Anche perché è una funzione che ti permette Sì di impostare in automatico il vattaggio Ti permette di non superare il vattaggio massimo E in più ti lascia la libertà di abbassare anche il vattaggio Io come ho detto nella recensione Queste coil le utilizzo intorno ai 40-45 watt Secondo me il vattaggio suggerito sia per la 02 Sia per la 0.15 e anche per la 04 Secondo me è un po' eccessivo Prendi come riferimento sempre un meno 5-10 watt Rispetto al vattaggio consigliato E se il problema continua Ti suggerisco di andare a sostituire la coil E mi rifaccio ad un video uscito proprio oggi Del nostro amico il mio angolo dello svapo Che sembra abbia trovato una soluzione Per ciò che riguarda la scarica della batteria Io ho girato diverse mail all'avvaporesso Segnalando questo problema Grazie anche ai vostri commenti e alle vostre segnalazioni Ma mi ha risposto in modo non esaustivo Quindi non sto qui a riportarvi quello che mi ha detto Ma grazie al nostro amico del mio angolo dello svapo Con un video uscito oggi Sembra da quello che dice lui Almeno io ancora non ho provato Che il problema della percentuale Della carica restante della batteria Che passa dal 100 al 70% Senza indicare gli step intermedi Sembra si possa risolvere Scaricando semplicemente la vostra LuxxR Max Per 3 volte E ricaricandola con un caricabatterie lento Quindi immagino da 1A per altre 3 volte Alla fine di questi 3 cicli di carica e scarica Anche le indicazioni della carica a batteria Dovrebbero andare a normalizzarsi Fate la prova e fatecelo sapere Come sempre nei commenti Questo era un po' tutto Io sono Tato Questo è il canale di Unico Svapo Iscrivetevi e attivate la campanellina Ma come dico sempre Svapate tutti Ma svapate in sicurezza Ciao ciao Alla prossima